sempre gli amici e come non spiegano perché per forza in che senso perché per forza vuoi cantare solo con la mia ma non possiamo neanche solo con la mia non solo con la tua non è un problema per te puro assi beh figurati perché dovrebbe essere un problema per me scusami ma dimmelo tu perché dovrebbe essere un problema per te non lo so dimmi perché dovrebbe essere un problema per te tu stai insinuando che deve essere un problema per me veramente un grande diciamo che poca libertà poi magari per te di fare che cosa di decidere quando come con chi tornare perché con chi ha alzato le sopracciglia al cielo va bene dai vieni qua dai ti sei ripreso ma secondo te secondo te io mi fidanzerò nel prossimo mese secondo te io in questo momento sono innamorato ma lasciami parlare pezzo secondo te io sono innamorato in questo momento c'è qualche ragazza innamorata di me e io amo questa ragazza che è innamorata di me no aspetta ciao 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 ciao